Dunque si è aperta a tutti gli effetti con la conferenza stampa e con la prima riunione di oggi pomeriggio la procedura del dibattito pubblico per il raddoppio della ferrovia Roma-Pescara intervento da remoto del ministro Enrico Giovannini trattenuto a Roma dalle comunicazioni del premier Draghi sulla guerra in corso in Ucraina ma per quanto riguarda la sua notizia è quella che ha dato appunto il ministro Giovannini la notizia più importante della mattinata riguarda l'estensione della procedura del dibattito pubblico anche ad un tratto che in linea teorica non sarebbe stato interessato da questa fase di confronto con l'opinione pubblica e le realtà del territorio vale dire il tratto da Pescara all'interporto di Manopello ma ne sa di più la nostra Gigliola Edmondo che ha seguito con la nostra troupe la conferenza stampa e dunque le do la linea proprio al termine dei lavori che sono terminati da non molto Gigliola, buon pomeriggio Sì, buon pomeriggio a te direttore con Andrea Berardinelli siamo ancora all'interno dell'aurum di Pescara come dicevi tu si è da poco conclusa la prima parte del dibattito pubblico dal quale prendono poi le mosse i successivi step che porteranno alla realizzazione di un progetto atteso da anni quello della velocizzazione della tratta ferroviaria Roma-Pescara e come hai già anticipato bene tu il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili ha fatto da remoto quindi in collegamento perché è trattenuto a Roma un importante annuncio noi abbiamo proprio quella parte quel momento dell'annuncio che hai già anticipato e io chiedo alla regia centrale quindi Dino D'Angelo di farcelo ascoltare Abbiamo ritenuto che visto che l'intera Roma-Pescara rientra nell'allegato 4 del decreto legge 77 del 2021 che riguarda il PNRR è opportuno che anche il tratto non coperto originariamente dalle regole compreso il dibattito pubblico del PNRR invece venga ricondotto a unità questo vuol dire che RFI avvierà una seconda iniziativa come quella di oggi per ricomprendere anche la parte da Pescara fino all'interporto Questa è dunque la dichiarazione l'annuncio del Ministro Giovannini Gigliola c'è stata comunque a questo punto una piena consapevolezza da parte del Governo che quello probabilmente è il tratto su cui si concentrano le attenzioni e le preoccupazioni emerse negli ultimi giorni e che quindi fosse giusto sottoporre ad una procedura di ampio confronto proprio questo tratto Gigliola Certo anche perché nel corso del dibattito pubblico che è stato avviato proprio oggi sul raddoppio della ferrovia Roma-Pescara in particolare ricordo che il confronto pubblico il dibattito pubblico che è stato avviato oggi riguarda i primi due dei quattro lotti dell'opera e sono il primo e il secondo lotto riguardano l'interporto Manopello Interporto Manopello quello è il primo lotto il secondo è Manopello Scafa l'opera già finanziata con i fondi del PNRR per 720 milioni di euro sulle peculiarità si sono soffermati il presidente della regione Marco Marsilio che tra poco ascolteremo ma soprattutto il commissario straordinario di governo Vincenzo Macello l'ingegnere ha ripercorso tutte le tappe che dovranno essere diciamo compiute per realizzare entro una data ben precisa entro il 2026 l'opera dovrà essere realizzata e quindi i tempi sono stretti e c'è questa apertura al territorio che potrà apportare un contributo poi sentiremo nell'approfondimento di questa sera cosa ci ha detto perché ha detto cose molto importanti insieme alla coordinatrice del dibattito pubblico Avventura Urbana Iolanda Romano e a Caterina Cittadino che è la Presidente della Commissione Nazionale di Dibattito Pubblico perché questo termine ricorre così tanto perché è una procedura che in Francia già esiste da oltre 30 anni ma in Italia sta prendendo piede da 4 anni e in particolare questo incontro il dibattito pubblico di Pescara è il secondo del centro sud Italia è il primo del centro sud Italia è il secondo in Italia cosa succede che il territorio può apportare dei suggerimenti non proprio delle modifiche come ho chiesto al Governatore ma sentiamo il Presidente della Regione Marsilio cosa ci ha detto sulla procedura e su quello che avverrà Presidente Marsilio partiamo dalla notizia del giorno l'annuncio del Ministro Giovannini insomma se l'aspettava l'attendevate? era una sollecitazione che era stata fatta ci ha fatto una bella sorpresa ne siamo soddisfatti perché questo consente di aprire il dibattito pubblico sull'intero tracciato sull'intero percorso a cominciare dai lotti che stanno già in conferenza dei servizi quindi con la progettazione avanzata come quello tra Pescara e Chietiscalo che quindi entrerà a pieno titolo nell'intero percorso del dibattito che è nello stesso tempo l'altra buona notizia è che tutti i progetti verranno assoggettati alle regole del PNRR che significa semplificazione delle procedure dimezzamento dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni insomma la speranza di vedere aperti i cantieri già entro la fine dell'anno e di cominciare davvero a misurare i giorni che mancano alla realizzazione di un'opera fondamentale per lo sviluppo del territorio è una speranza che si rinforza di più bene queste le dichiarazioni di Marsiglio Gigliola io ti ringrazio naturalmente ci aggiorniamo al Tg della Sera e anche allo speciale delle ore 20 e 05 grazie buon lavoro per l'hello speciale per l'ho per l'ho Grazie a tutti.